amici di montare online oggi parliamo di qualcosa di davvero molto particolare ormai siamo abituati con la tecnologia a trovare praticamente ovunque una lunga serie di optional una lunga serie di extra e le nostre auto come ben saprete non fanno assolutamente eccezione a volte ci viene da chiedere ma cos'altro si può fare di più soprattutto su alcuni elementi da un punto di vista concettuale molto semplici della nostra auto come per esempio le luci al di là della tecnologia led xenon normale è difficile pensare che si possa fare dei passi avanti anche in quel senso in realtà non è vero in realtà non è vero l'abbiamo scoperto di recente sulla nuova ds3 cross back e stiamo parlando dei nuovi fari ds matrix di cosa si tratta sì in effetti ds3 crossback la chiamiamo icona di stile high tech proprio perché raccoglie in sé da un lato quello che è lo stile scultorio e una tecnologia ad avanguardia come sono tutti gli elementi tecnologici della gamma ds in questo caso parliamo del sistema dei ds matrix light vision quindi un'evoluzione del sistema led di illuminazione che da un lato crea appunto uno sguardo una firma luminosa accattivante su ds3 crossback dall'altro ha un importante plus di prodotto all'insegna della sicurezza il sistema infatti prevede un modulo a matrice di led diviso in 15 segmenti che quindi fa in modo con un sistema totalmente automatico di abbagliare e quindi in qualche modo illuminare con il massimo del fascio luminoso la strada in contesti extra urbani allo stesso tempo riconoscendo quelli che sono veicoli o moto che ci vengono incontro ci precedono e quindi spegnendo in maniera automatica e progressiva i segmenti di led per evitare di abbagliare gli altri utenti della strada il risultato quindi è una guida in totale sicurezza dove avremo il massimo della strada illuminata ma non daremo fastidio fastidio agli altri utenti questo sistema è pilotato per il riconoscimento degli ostacoli dalla telecamera posta sul parabrezza che quindi riconosce gli ostacoli e il loro movimento quindi fa in modo di creare questo cono d'ombra che segue progressivamente il movimento delle auto o degli altri utenti della strada che incontriamo grazie mille in effetti dobbiamo sempre ricordarci che per quanto riguarda la sicurezza le luci sono fondamentali non semplicemente per consentire a noi di vedere ma anche di essere visti dagli altri utenti dalla strada e non abbagliarli e senza alcun dubbio un passo in avanti molto importante quindi grazie mille a ds ricordatevi che tutti i dettagli non solo sul sistema luminoso della nuova ds3 crossback li trovate nella nostra prova su strada sempre naturalmente sulle pagine di motori online